Allora, visto che stamattina nella analisi in preapertura degli indici abbiamo anche descritto l'operazione che stavo impostando e in quel momento non sembrava un'operazione felice sul DAX, operazione rialzista, perché la mia ottica era di rimbalzo, vediamo come l'ho conclusa. Io l'ho conclusa guardando la dashboard. Sulla dashboard nel momento in cui sono uscito sulla seconda operazione avevo un valore di, vado a riprenderlo esattamente, di 15.691. Vado a scrivere qui sopra, 15691. Questa è la dashboard in Excel che si può collegare in DDE, che io posso collegare in DDE alla mia piattaforma ProRealTime, ma avere tutta una serie di strumenti, eccetera, eccetera. Poi, per motivi tecnici, ne abbiamo creato a suo tempo, sono già passati degli anni, la versione che gira su metà 3 del 4, bla 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 bla. Questa non è disponibile perché ci sono le formule, se la vendessi, ci ha occorre tutte le formule sparire. In realtà, la mia operazione stamattina è un'operazione tardiva, perché avrei dovuto effettuare il mio ingresso a 15.656. Invece io sono entrato tardi, operazione quindi non felicissima come timing d'ingresso, perché sono entrato a 15.000, andiamo a rivedere il prezzo sull'altro schermo, a 15.671. Non quindi un ingresso particolarmente gigliato. Qual è la configurazione che mi ha portato a chiudere a 15.701? Era semplicemente che, a 15.701, lo scrivo, avevo un target, perché io sono entrato praticamente un po' prima del superamento di questa resistenza. E quindi, ingrandiamole queste cifre, sono entrato un po' prima e quindi mi sono, considerato anche lo spread, andato a chiudere su un numero tondo, 15.700, bla bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla. Dopodiché ho detto, ok, chiudiamo metà operazione a 700, 701 è stato l'eseguito, e vediamo che cosa succede. Il mercato è piuttosto forte, la macchina mi dice di seguire il trend. Avevo però degli altri segnali di riduzione dell'operatività sull'Eurostox, di attenzione sul Futsimib, di attenzione sul Laser, che insomma non avevo un mercato coerentissimo, non lo potevo neanche chiedere ai future americani, proprio in quel tipo di momento. La mattina i future americani, sì, ti possono dare le indicazioni, ma valgono nella misura in cui. E sono contento comunque di averla chiusa. Dopodiché, il mercato che cosa fa? Fa questa roba qua. Mi fa un ritracciamento. Questo ritracciamento, da un lato, mi avrebbe potuto colpire il mio trailing stop e mi rodeva un po' le scatole, stopparmi quasi a pari, anche se ci poteva stare. Anche se ci poteva stare. E non potevo certo prevedere che il mercato avrebbe fatto questo rimbalzo. Mi era apparso un pallino giallo su questo indicatore che utilizzo, che è una roba un po' complessa da spiegare. Osservavo anche la posizione del sentiment che stava andando a lavorare sulla linea dello zero. Quando un mercato va dal basso verso l'alto e recupera, dopo un grosso sacrificio come quello della seduta di ieri, la linea dello zero inizialmente fa da resistenza e non ho nessuna garanzia che in quel momento il mercato mi dica ehi, puoi però riuscire a cavartela. Non ce l'ho questa garanzia. E quando non hai garanzia, devi fare una scelta. E questa scelta non può essere sì, però potrebbe fare. Devi fare una scelta in base a quello che vedi in quel momento e a quello che la tua esperienza ti dice. In questo momento vedete che ho dei segnali di segui il trend, riduci, cautela, riduci non sono proprio del tutto omogenei. Scusate. E quindi cosa ho fatto? Ho chiuso. Ho chiuso il momento in cui la candela a 5 minuti sotto il pallino giallo mi diceva ho chiuso. Sotto il pallino giallo sto prendendo un trend che potrebbe ritracciare. E mi rompeva le scatole psicologicamente. Qui la valutazione sia tecnica pallino giallo segnali di attenzione robustezza della resistenza tonda del 15.700 è anche che il venerdì non voglio arrivare al venerdì pomeriggio con un'operazione già un po' forzata perché fatta a un livello di prezzo come entrata non bellissimo e vedermela stoppare. Mi dà proprio fastidio. E a me dà fastidio chiudere il venerdì con uno stato d'animo del tipo dai forse hai preteso troppo perché sei entrato un po' troppo tardi. Molto spesso tante delle nostre perdite ci sono proprio perché in realtà noi sbagliamo il prezzo di ingresso. Non accettiamo che margine non ne abbiamo tantissimo e pretendiamo però che il mercato ce lo dia. E tante volte il mercato poiché non abbiamo un rapporto rischio rendimento bellissimo non abbiamo ripeto un ingresso meraviglioso fa poi quei ritracciamenti che ti fanno chiudere l'operazione a pari perché in realtà non è un pari è un trailing stop rispetto al prezzo iniziale che dovevi avere. Cosa succede? Che l'orgoglio del trader non accerta questo e va di nuovo a inseguire sulla forza un mercato che poi a un certo punto può al 50% continuare al 50% dare ragione a quelli che hanno bisogno di prendere profitto perché sono entrati meglio quando tu non c'eri e di conseguenza quel secondo long o quel secondo short ti genera una perdita a quel punto è venerdì sei stanco ti incazzi e cominci nel fine settimana a rischiare di inanellare una serie di operazioni sbagliate ma non perché hai bisogno di guadagnare perché hai bisogno di avere ragione ed è questo il grosso problema dei trader che non vogliono guadagnare sul mercato vogliono che il mercato per motivi che non hanno nulla a che vedere con la finanza ma molto invece a che vedere con la psicologia personale il vissuto tutta una serie di altre cose gli dia ragione quella ragione che magari non ottengono da altri aspetti della loro vita ergo mi son detto si sarebbe molto bello tirare fino a 735 però se poi ti torna indietro aia non avevo nessun segnale che mi dicesse di uscire a quel prezzo però mi son detto c'è qualcosa che potresti evitare allora ho pensato 679 primo target 704 secondo target quant'è la differenza fra i due target sono 25 punti dividili per due sono 12 punti e mezzo somma il primo target 679 più 12,5 e quanto ti fa 693 694 mi ha toccato 691 è stato lì un po' a cincischiare ho preso sono uscito perché mi son detto potrei trovarmi più tardi in realtà il fatto che poi sia tornato a 700 non mi ha dato lo stesso piacere che mi ha dato aver chiuso a un livello tale che poi dopo 10 minuti era sbranato sotto di 13 punti perché quando sei lì che te ne stai giocando la differenza fra 20 di guadagno e 30 13 punti sotto e fa parecchio la differenza ecco quindi come a volte nella gestione delle operazioni importantissimo è proprio il tipo di psicologia che dobbiamo andare a mettere a mettere in piedi perché è molto molto importante la psicologia in questo senso perché ti frega se no e quando la psicologia ti frega e allora lì ci sono poi altri tipi di problematiche che devi andare a mettere in piedi e non è così semplice e non è così facile a mettere in piedi